Maxi sequestro di sigarette di contrabbando operato dalla Guardia di Finanza. I finanziari del gruppo di Pozzuoli nel corso di un servizio di perlustrazione notturna hanno individuato un capannone di circa 600 metri quadri nella zona industriale di Marano, in provincia di Napoli, utilizzato come sito di stoccaggio di sigarette illegali. All'esterno della struttura è stato fermato un automezzo che dal successivo controllo è risultato carico di bionde di contrabbando. Il controllo ha permesso di constatare anche la presenza di altri tabacchi occultati all'interno di blocchi di calcestruzzo alleggerito e in altri automezzi già pronti per effettuare la distribuzione al dettaglio della merce. Complessivamente sono state rinvenute 2270 kg di tabacchi lavorati pronti per essere immessi nel mercato del contrabbando e dal valore stimato di oltre 350.000 euro. Due persone, l'autista del TIR e il gestore del deposito, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato. Di conseguenza sono stati sottoposti a sequestro sette automezzi, di cui uno modificato strutturalmente con la creazione di un doppio fondo e due carrelli elevatori.